Il sindaco di Ragusa, Nello Di Pasquale, è stato eletto per acclamazione sabato scorso vicepresidente dell'Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia, presidente E' Giacomo Scala, sindaco di Alcamo. I due vertici sono stati eletti dai consiglieri regionali sabato a Palermo, dove il rivale di Nello Di Pasquale era candidato di sinistra. In rappresentanza della provincia di Ragusa c'è anche il sindaco di Scigli Giovanni 25 eletto nel direttivo regionale. Parola d'ordine e sinergia tra i comuni, soprattutto in un periodo di crisi economica aggravata dalla riduzione dei finanziamenti destinati agli enti locali stabiliti dal Governo nazionale. Il neo vicepresidente Di Pasquale annuncia una lunga battaglia per non far soffogare nei debiti e tutelare i comuni. In merito a settembre sarà organizzata una manifestazione dove parteciperanno sindaci e sindacati. La prima cosa che chiederemo, e questo già da stamattina, io so che il Presidente deve avere un incontro con l'assessore Chinnici, i trasferimenti regionali, la prima e la seconda tranche, perché sono fondamentali per poter pagare i tanti fornitori che aspettano gli interventi. Dopodiché poi la battaglia comune è da sviluppare insieme per cercare di invertire quella che è la rotta da parte dei livelli centrali che continuano i tagli nei confronti degli enti locali.